allora questa la facciamo solo per come si dice per documentazione ok per completezza in digitale su questo disegno ho aggiunto una serie di dettagli e quindi adesso li voglio aggiungere anche un tradizionale sarà una live molto breve cinque minuti sistemiamo quello che dobbiamo sistemare e poi passiamo all'ultima delle cinque illustrazioni in particolare voglio aggiungere il bianco in particolare voglio aggiungere il bianco che ci siamo accorti essere fondamentale grazie 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 per avere miglior contrasto grazie 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 sto aggiungendo quei litocchini che abbiamo fatto in digitale anche sul tradizionale piccole cose no? dettaglino semplice semplice però fa brillare di più il disegno aspetta che lo ingrandisco così lo vedi bene figo no? adesso lo devo fissare e ci siamo bene allora oggi dobbiamo fare l'ultima illustrazione della serie peraltro il lavoro viene annunciato il 7 di agosto e quindi finalmente potrò anche svelare di cosa si tratta e ovviamente sarete i primi a sapere sì, l'idea di base era solo di fare questo dettaglietto qui in maniera che rimane traccia nelle past almeno uno se vuole può vedersi tutto il processo dall'inizio alla fine e invece no, tornerò fra non credo più di un'ora perché devo farmi solo un po' di toppettine sul bozzetto digitale e poi ci mettiamo a fare l'ultima illustrazione delle 5 che sarà una roba science fiction 60-70 classica quindi con astronavi, spazioporti e quant'altro probabilmente cambierò un po' tecnica vediamo ok ci vediamo fra pochissimo online a dopo ciao ciao